eccoci qua anche di domenica non ci fermiamo ragazzi con il mio amico peluche è il mio microfonino così mi sentite un pochino meglio indice e ve l'ho messi un po sparsi ma poi ci sono i numerini adesso vi spiego bene nel frattempo cortesemente iscrivetevi al canale così abbiamo una comunità un po più importante metto un po posto la maglietta e blu nazionale ma oggi metterò il video in bianco e nero campanellina così quando arriva il video e vi avviso perché mi pare che stiamo dando un po di notizie e ce ne sono oggi allora la verità e le cifre su federico chiesa un commento sulla roma e lassio di ieri il mercato della roma il mercato della lassio di separo l'inter e la reazione di conte del napoli ok così diamo un po una sistemata e io partire un attimo dal napoli e di conte ieri che passa ai rigori e poi conte e io ormai questo metodo lo so io differenzierei voglio differenziare il lavoro che fa conte e che è un lavoro di quanta tanta qualità e tanta quantità rispetto a max allegri e il allenatore che sta in turchia che noi come sempre evitiamo di nominare però tu ieri intanto batti il modena con più tranquillità non ci dimentichiamo che modena ha preso anche una traversa alla fine del primo tempo e poi per un rigore non passa il modino quindi chiedi scuse ai tifosi prendi i 6 milioni antonio conte e dimostri che sei forte anche senza eh lukaku o bambasten ok o asimen te l'hanno spiegato le cose sistemeranno però se questo è tutto un metodo ma una metodologia di scuse pre eh sono tutte scuse pre e quindi questa cosa non va bene mercato inter non c'è mercato inter perché all'inter non ci sono mani ve lo sto dicendo un sacco tempo è rimasto male su rodriguez e il buon simone inzaghi stanno provando a fare un centrale difensivo goodman piaceva ma proprio non c'è stata neanche una minima apertura al genoa volevano un prestito pagamento a 25 anni e non si è potevo fare goodman è tutto pronto già ve lo sto dicendo un sacco di giorni la fiorentina e genoa e anche l'accordo con il calciatore il problema qual è che l'atalanta è andata lì a genoa e ha cacciato i soldi e si è portata via retegui quindi secondo me in qualche modo sistemeranno ok una pillola sul monza di patrisio lasciamo perdere perché è una cosa proprio che non esiste e le partite e poi andiamo al mercato la valutazione di chiesa è questo che sono importante ho visto sia la lazio che la roma che il napoli e ieri sera razio è una buona prestazione insomma una partita abbastanza facile vedo tanta corsa tanta quantità il mercato della lazio non è finito quindi ieri diciamo nella pre season la lazio abbastanza promossa mancano un paio di innesti so che il pallino principale era ioannitis e cerchi questa era la coppia iniziale nella testa della lazio e in seconda battuta c'era dia ok abbiamo confermi sia dalla lazio che della serenitana quindi dia probabilmente sarà un giocatore della lazio matto come un cavallo ma forte come un bel un bel cavallo è quindi è un cavallo bizzarro e ha 27 anni la sua carriera non parla a suo favore ha fatto un anno bene due anni in bene in carriera sono pochi ok è un ragazzo un po particolare magari baroni con la sua esperienza un tecnico che si fa sentire lo può ridizzare lazio sta puntando forte su serchi e è un ottimo elemento e a livello di di sule poco più poco meno poco meno vediamo come andrà a finire e mercato roma come al solito oggi avete visto il corriere di murinio che riporta paro paro quello che ho detto io fa decennia da vedere i miei video 10 più 2 oggi scrivono 10 più 2 è una veramente una cosa allucinante e altro che copia in colla ma questa è la verità la roma vuole un prestito o anche oneroso ma senza obbligo poi hanno chiesto senza diritto di riscatto lì non si passa lì c'è massara chissà se è un po deluso da un po di alcuni comportamenti a roma ma ad oggi a signone è il primo obiettivo della roma l'abbiamo detto e vedrete in qualche modo sistemeranno le cose e andiamo un po su federico chiesa ma guarda un po dalla turchia qual è la cifra che vedi di chiesa 15 milioni è la cifra reale è inutile che li provano a smentire la iu e la iu adesso chiede 15 milioni perché la minus valenza se la iu lo vende sotto ai 13 6 o 13 4 adesso non ricordo diciamo 13 e mezzo e facciamo prima e la iu fa minus valenza quindi adesso per fare 0 a 0 non paga l'ingaggio si leva un peso perché chiesa prende 6 milioni netti 12 lordi quindi risparmia 12 milioni prende 13 milioni da lì sono 25 milioni sono i soldi che poi faranno all in su cup miners comunque alla fine cup miners l'atlanta sarà costretto a cedere e tanto il generale si è messo di punta questi certificati i ragazzi sono assurdi ok perché dopo un dottore non è probabile quello che scrive mentalmente sicuramente il prolegazzo avrà dei problemi però bisogna stare attenti nel rispetto anche dei lavoratori di chi sta male veramente e dei tifosi quindi e sulla roma ancora io direi di lasciar perdere roma per fare questo qui deve cedere se la roma dovesse cedere zaleschi magari ci può pensare bove lo stesso la fiorentina ci risulta che non interessa la fiorentina eppure mancano due centrocampisti questa cosa vi dovrebbe far riflettere ok io vi ringrazio buona domenica seguitemi iscrivetevi 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 ok alle vi saluto vi saluto anche il mio amico pelusci microfono e buona giornata a tutti a domani che sto lavorando su un'altra notizio della roma è calma molta calma